Il Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza approvato dal Governo nel 2021 ha stanziato a favore dei Comuni circa 28 miliardi di euro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità. Il PNRR è un'imperdibile occasione per il Comune di Caltanissetta, per vedere finanziati progetti su vari ambiti della vita sociale, economica ed infrastrutturale, lo dichiara il capogruppo della Lega Oscar Aiello. Per usufruire delle opportunità offerte dal PNRR sono previste procedure complesse, attraverso le quali vengono erogate risorse comuni che sono i soggetti attuatori. A tal fine, afferma Aiello, l'Unione Europea ha fissato paletti rigidi, non solo riguardo la tempistica, ma anche per quanto riguarda i parametri da rispettare per la realizzazione dei progetti. La Lega ritiene pertanto opportuno fare chiarezza e che l'amministrazione comunale fornisca ai consiglieri comunali un elenco dettagliato dei progetti, specificando la situazione attuale e il loro stato di avanzamento. Con l'interrogazione presentata è stato chiesto al Sindaco quando i progetti sono stati presentati, in quali aree e quanti di quei progetti sono stati approvati. La quantificazione economica complessiva dei progetti presentati e di quelli approvati. In caso di non approvazione di qualche progetto presentato, specificare i motivi della non approvazione. Lo stato di attuazione dei progetti è il rispetto della tempistica e se oltre ai progetti già presentati vi è la possibilità di cogliere nuove opportunità offerte dal PNRR, presentando nuovi ed ulteriori progetti. Abbiamo contattato il Sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, che ha dichiarato che le risposte all'interrogazione presentata dal consigliere Aiello verranno discusse in aula.